118 anni, più di un secolo, sembra un tempo lunghissimo, ma è bene sapere che lungo questa parentesi storica è sfumata la vita di 85 bambini uccisi dalle mafie. Lo studio, effettuato da Libera e pubblicato da Save the Children, sfata, qualora ancora ce ne fosse necessità, l'annuoso luogo comune che vede le mafie misericordiose con donne e bambini. Niente di tutto ciò, i dati cristallizzano quanto la bestialità di Indrangheta, Camorra e mafia siciliana non abbia mai avuto riguardo per alcuno. La raggelante classifica, stilata da Libera, vede il primo posto per numero di vittime bambine alla Sicilia con 31 minorenni uccisi. Al secondo posto la Campania, in particolare Napoli, che ha visto morire di Camorra 16 bambini. Al terzo posto c'è la Calabria, Reggio in particolare, dove nel corso degli anni sono stati uccisi 13 innocenti. Altri sporadici casi si sono registrati al centro e al nord. Il 41% delle vittime è stato ucciso casualmente, tra questi il piccolo Coco Campolongo, ucciso il 16 gennaio 2014 a Cassano all'Oionio, insieme al nonno e alla compagna marocchina di quest'ultimo, durante un regolamento di conti per spaccio di droga. Il piccolo venne trovato ancora legato sul seggiolino dell'auto, guidata dal vero bersaglio dell'agguato al pregiudicato Giuseppe Iannicelli. Ancora il 25% sarebbe morto per vendetta diretta e il restante 10,6% ucciso da proiettile vagante. Ascrivibile a questa categoria il tragico micidio di Domenico Gabriele, il bimbo di 11 anni, colpito per errori da una pioggia di piombi e un agguato destinato a un pregiudicato a Crotone, il 20 settembre 2009. Loredana Colloca per la Cineus 24.